Eccoci qui, bentornati, oggi un ospite speciale per andare a raccontare i mercati ancora più in profondità perché noi assolutamente parliamo spesso in questo canale, lo faccio anche sui miei articoli sul Sole 24 Ore di analisi tecnica, analisi intermarket, analisi che riguarda la macroeconomia ma oggi con l'ospite che state guardando e che introduco subito Paolo Nardolino benvenuto Paolo Buongiorno Vito, un caro saluto a tutti degli spettatori Ecco, proprio con te Paolo oggi cercheremo di dare a chi ci ascolta qualche spunto in più per provare a osservare i mercati perché sappiamo, visto che tu sei esperto, analista esperto nelle tecniche di GAN ho chiesto, cioè sono molto curioso e vorrei appunto che tu spiegassi a me e a tutti come funziona questo modo di osservare i mercati che è sicuramente un po' alternativo rispetto all'osservazione tradizionale ma sappiamo che questi mercati alla fine non hanno una ricetta unica e quindi possono essere osservati forse devono, è la parola giusta, da più angoli e quindi oggi scopriremo con te appunto questo aspetto quindi ti lascio proprio, ti introduco con questa domanda cioè GAN, tu sei analista esperto delle tecniche di GAN Qual è il contributo che GAN apporta a chi vuole osservare i mercati finanziari? Innanzitutto, introduciamo la figura di GAN GAN è stato un trader molto famoso e anche molto longevo nella prima parte del secolo scorso hanno attraversato tutti i primi 50 anni del XX secolo e ha introdotto, è stato anche uno dei padri dell'analisi tecnica perché è stato uno dei primi a fare i grafici, a portare i grafici anche di lungo periodo e ha introdotto molte tecniche che poi sono state riprese dagli analisti tecnici successivi ma a mio avviso il contributo maggiore lo ha dato all'analisi e allo studio dei cicli del mercato è stato uno dei padri di quella che poi è diventata l'analisi ciclica però lui aveva un approccio più fondato sui cicli naturali quindi quando GAN presenta i suoi cicli lui si riferisce a cicli che hanno un'esatta corrispondenza con un fenomeno naturale e a differenza poi di studiosi successivi come Arst che ha modellato e ha creato un modello di analisi ciclica anche molto efficace sui grafici del mercato GAN si riferiva inizialmente ai cicli che esistono in natura e poi tentava di inserire il mercato in questo ciclo che era preesistente al mercato e questo tipo di analisi gli ha consentito comunque di diventare uno dei trader più famosi anche più prolifici anche da un punto di vista proprio di risultati che ha avuto è stato costantemente un trader che ha guadagnato molto sul mercato ha scritto anche molti libri, molti corsi ed è tutt'oggi ricordato dopo oltre un secolo quindi qualcosa di positivo ha lasciato quindi la differenza tra GAN e Erst è profonda cioè anche se c'è la stessa parola ciclica comunque c'è una differenza sostanziale GAN non parlava nei suoi test e nei suoi corsi di analisi ciclica lui si riferiva, diciamo, la dizione esatta era la teoria dei cicli o al più lui parlava di analisi armonica l'analisi ciclica è poi quella che ha sviluppato Erst la differenza sostanziale è che l'analisi di Erst è condotta sui grafici quindi si individuano dei cicli che sono cicli numerici e possono non corrispondere effettivamente a fenomeni naturali mentre l'analisi di GAN era riferita quasi esclusivamente a fenomeni naturali quindi il ciclo preesisteva, era dovuto ad un fenomeno naturale noi abbiamo il ciclo annuale ad esempio che è il fenomeno del movimento della terra intorno al sole, l'anno e il ciclo annuale era un ciclo che preesisteva che esiste anche al di fuori del mercato e che poi sul mercato ha un effetto questa era la logica di GAN lui parlava anche di analisi armonica perché i cicli vanno studiati anche nelle loro armoniche cioè il ciclo, facciamo l'esempio dell'anno l'anno è un periodo di rivoluzione della terra intorno al sole poi c'è la metà dell'anno che è il semestre poi le quattro stagioni, le semistagioni eccetera le varie divisioni sono armoniche di questo ciclo il modo con cui questo ciclo si presenta sul mercato e anche il contributo tra virgolette armonico che viene dato dalle singole armoniche è uno dei fondamenti di questa tecnica ci sono vari cicli non è soltanto il ciclo annuale ci sono dei cicli molto più corti e piccoli e dei cicli molto più lunghi e che sono poi quelli che determinano i macro trend del mercato molto interessante i mercati finanziari sono inseriti all'interno dei cicli della natura che riguardano non solo i mercati che riguardano appunto tutti gli eventi che ci riguardano proprio come uomini sostanzialmente Paolo ti chiederei di passare come dire dalla teoria alla pratica nel senso se hai qualche grafico per farci vedere come appunto un analista delle tecniche di GAN si approccia al mercato come te e cosa osserva quali punti grafici Sì, allora faccio vedere la situazione attuale dell'indice Standard & Poor's 500 allora condivido un attimo lo schermo Sì, si vede bene Ok, ecco qui questo grafico in effetti non è il grafico dell'indice Standard & Poor's 500 ma è un grafico del mercato americano corrispondente ad un ciclo importante uno dei cicli più importanti che utilizza la GAN che è il ciclo di 90 anni infatti a differenza vediamo anche delle date novembre, dicembre che sono dati future abbiamo delle date questo grafico in teoria poteva essere tracciato da 90 anni cioè anche mio padre e mio nonno poteva vedere questo grafico la tecnica è quella di analizzare un particolare anno e poi proiettarlo nel futuro di un numero di anni corrispondente a un ciclo ora, l'elenco dei cicli più importanti non è molto lungo lui si riferiva a cicli di 100 anni, 90 anni in questo caso è il ciclo di 90 anni poi c'è il ciclo importante di 84 anni il ciclo di 60 anni 50 anni, 49 anni 45 anni che è un'armonica del ciclo di 90 anni 30 anni, 20 anni 18, 19 e 10 anni questi sono i cicli maggiori poi esistono dei cicli più bassi più corti molto importante il ciclo di 7 anni 5 anni poi 3 anni, 2 anni e 1 anno e poi ci sono i cicli diciamo quelli più veloci che sono al di sotto dell'anno fino ad arrivare ai cicli che si sviluppano nelle settimane per dare un quadro generale ora noi vediamo l'andamento di questo grafico questo grafico blu questa è la linea spezzettata è esattamente quello che ha fatto il Dow Jones 90 anni fa naturalmente i numeri assoluti cioè i valori i prezzi non possono essere corrispondenti anche perché 90 anni fa il Dow Jones era una media Gannon lo chiamava una media perché era effettivamente una media c'erano nel 1933 c'erano già 30 titoli perché l'introduzione a 30 titoli è fatta nel 1928 prima era originalmente era a 12 titoli il Dow Jones poi a 20 e poi nel 1928 furono introdotti altri 10 titoli e arrivò a 30 titoli quindi da allora poi è rimasto a 30 titoli ma prima il Dow Jones era una media cioè c'erano delle aziende tipo United Steel General Motors che avevano dei valori si faceva la media di questi valori e il valore del Dow Jones era una media quindi quotava intorno ai 150-200 fino ai 386 che ha visto nel 1929 poi è cambiato il calcolo non è più una media e adesso il Dow Jones quota 30.000 però a noi interessa vedere l'andamento perché dobbiamo parlare del tempo quindi vediamo qual è stato l'andamento del mercato e quindi prendiamo il grafico del Dow Jones lo normalizziamo con una tecnica particolare io su questi argomenti faccio anche informazioni quindi chi vuole approfondire può contattarmi ci sono delle tecniche che consentono di normalizzare il prezzo di un indice in passato ai valori attuali si normalizza i valori di gennaio dell'indice al quale stiamo facendo riferimento e quindi sviluppiamo l'eventuale sviluppo del prezzo per l'indice attuale con i prezzi attuali quindi un indice attualizzato se facciamo questo per l'indice Standard & Poor questo è il grafico del Dow Jones del 1933 se vediamo l'indice accendiamo l'indice attuale l'indice attuale è questo con le barre vediamo lo sviluppo e la coincidenza è sinceramente impressionante perché abbiamo anche il primo movimento che ha fatto ad inizio anno con i minimi fatti alla metà di marzo il Dow Jones del 1933 l'inizio di marzo è il minimo poi ci sta una lunga fase di ascesa molto forte che ha anche sorpreso tanto abbiamo visto quest'anno tu stessi hai fatto un ottimo articolo sul sole 24 il rally più odiato di sempre però c'era una tecnica che poteva individuare questa salita ed era questa era una tecnica ciclica e poi da la seconda metà del mese di luglio questo ciclo in particolare questo ciclo prevedeva una fase di decelerazione chiamiamola correzione fisiologica perché di questo stiamo ancora parlando fino al allora fu un fatto il 20 ottobre il minimo quindi diciamo fino alla metà di ottobre e obiettivamente anche negli swing secondari questo massimo fatto all'inizio di settembre è anche un massimo ciclico che corrisponde a quello che è stato il ciclo passato ecco questo è soltanto uno dei cicli attivi perché dobbiamo dire che la teoria dei cicli di Gann comprende una serie di cicli che sono attivi anzi diciamo tutti i cicli sono attivi però c'è una parola chiamiamola la dominanza ci sono alcuni cicli che in una fase sono dominanti e magari lo stesso ciclo di 90 anni per un periodo lungo è dominante poi si attenua il contributo di questo ciclo perché ci sono altri cicli che assumono la dominanza e anche questo fenomeno è periodico quindi non soltanto è periodico il fatto che il ciclo si ripresenta periodicamente a cadenze irregolari ma anche il suo contributo alla risultante ciclica generale è periodico quindi c'è una legge matematica che Gann chiamava la legge di vibrazione che assegna periodicamente al ciclo la sua importanza noi siamo stati, noi analisti diciamo che analizziamo le tecniche di Gann siamo stati abbastanza fortunati in questo ultimo triennio perché c'era la dominanza dei cicli maggiori perché tutti davano lo stesso contributo e anche la stessa informazione abbiamo avuto dal 2021 fino ad oggi fino all'estate del 2023 il contributo di tre cicli fondamentali poi magari li faccio vedere sono il ciclo di 90 anni che è questo c'era il ciclo di 20 anni e il ciclo di 60 anni che davano lo stesso contributo la stessa informazione e hanno fatto sì che i movimenti che abbiamo vissuto dal 2021 al 2023 sia rialzi che ribassi sono stati molto pronunciati molto forti proprio perché l'informazione che davano tutti e tre i cicli era concorde quindi una confluenza c'era una confluenza cioè diciamo che l'informazione ora dobbiamo immaginare i cicli come dei segnali sinusoidali proprio parliamo matematicamente sono dei segnali sinusoidali quando sono in fase i segnali il contributo si somma quando invece si sfasano è previsto lo sfasamento nel 2024 si sfasano è previsto lo sfasamento il contributo non è più concorde cioè non vanno più in fase e non si sommano più i contributi e possono dare magari un ciclo da un contributo rialzista altri due ne danno un contributo ribassista se è dominante e rialzista il mercato sale sale meno di quanto dovrebbe salire nella fase che c'è stata tra il 2021 e il 2022 il ciclo di 60 anni era un ciclo che dava un contributo enorme è stato quello dominante e in effetti se andiamo a vedere quello che è successo 60 anni fa il mercato ha fatto nel 1961 una fase di rialzo identica identica al 2021 identica il mercato finiva il ciclo aveva un termine nella seconda parte di dicembre del 1921 nel 2021-2022 noi abbiamo avuto diciamo un delay c'è stato il massimo esatto quando lo prevede il ciclo poi c'è stato un delay abbiamo avuto il massimo nella prima settimana del 2022 questo era dovuto ad un ciclo particolare di Apple perché questa tecnica non va applicata soltanto sul mercato cioè sull'indice generale ma andrebbe applicata come diceva Gunner sui singoli titoli soprattutto sui titoli che danno contributo maggiore Apple è uno degli indici che ha dei titoli che ha maggior contributo su vari indici sia sul Nasdaq sia sullo Standard & Poor's che anche sul Dow Jones adesso meno ma prima anche sul Dow Jones quindi analizzare il ciclo di Apple ha comportato questo sfasamento di qualche giorno perché il massimo l'hanno fatto il 4 gennaio ed era previsto intorno al 20 di dicembre il massimo poi però tutto il 2022 era previsto a ribasso da tutti i cicli maggiori tutti non ce n'era uno che era di altro quindi chi va analizzare il tecnico di Gunner aveva uno strumento potentissimo per seguire a ribasso il mercato e il mercato ha fatto i minimi nel 2022 questa è una cosa che abbiamo visto periodicamente anche con Vito perché ci scambiamo periodicamente le opinioni ha fatto vedere che i minimi sono stati fatti sul ciclo di 20 anni esattamente nelle stesse date negli stessi giorni del minimo di ottobre fatto il 13 ottobre 20 anni prima lo fece il 10 ottobre il minimo da lì in poi è partita la fase di ricostruzione c'è stata questa fase di ricostruzione del mercato era previsto sia dal ciclo 20 anni sia dal ciclo 60 anni sia dal ciclo 90 anni una nuova fase di correzione che doveva concludersi entro la prima settimana di marzo ha fatto questo minimo poi da lì in poi il mercato è partito e tutti i ciclieri erano a rialzo adesso siamo in una fase attuale in cui il contributo che dà il il diciamo il ribasso è in fase di esaurimento non è ancora finito perché il ripeto nel ciclo 90 anni che è il ciclo in questa fase a mio avviso è quello che ha la dominanza e questa cosa va stabilita anche con un po' di esperienza di un po' perché Gane diceva deve essere il mercato che ti dice quale ciclo sta prendendo la dominanza quindi noi dobbiamo vedere il mercato ci sono delle tecniche precise matematiche che ti dicono questo ciclo puoi scartare questo ciclo lo puoi assumere come ciclo dominante fai l'analisi poi vedi se è giusta se è corretta questa è stata un'analisi corretta ci aspettiamo ancora una fase di fibrillazione nella diciamo proprio in queste due settimane oggi inizia la seconda settimana di ottobre tra la seconda e la terza settimana di ottobre è previsto un minimo del ciclo dopodiché si riparte una fase rialzista e questo ciclo si rifasa con i cicli di 60 anni e 20 anni quindi potremmo avere anche una fase di rimbalzo forte nell'ultima parte dell'anno quantomeno possiamo anche azzardare una previsione nei primi due mesi del 2024 l'anno 2024 invece sarà un anno molto complicato per varie ragioni potremmo avere anche un largo laterale con i bassi forti anche nella seconda parte dell'anno magari poi questo lo affronteremo lo vedremo in qualche altra occasione con Vito e quindi l'analisi generale può essere condotta in questo modo cioè c'è un elenco di cicli fissi questi cicli proprio noi possiamo etichettare con il numero di anni vanno sempre visti costantemente cioè in ogni anno in cui noi ci proponiamo di fare l'analisi andiamo a vedere in quale parte di questi cicli siamo se siamo in una parte di alzista in una fase di bassista abbiamo la fortuna di avere il Dow Jones che è un indice che ha uno storico molto lungo quindi ci consente di avere anche di fare delle prove per vedere questo ciclo in passato come ha funzionato quindi andiamo a vedere come era il mercato nel 1933 sì ma 60 anni prima del 1933 come era cosa ha fatto e andiamo a vedere c'è stata una corrispondenza e vediamo che c'è stata perché poi è proprio il periodo in cui Gunn era attivo e ha fatto le sue previsioni e le sue operazioni quindi oggi possiamo replicare questo studio perché lui lo ha fatto lui ha fatto naturalmente aveva delle difficoltà enormemente maggiori delle nostre a reperire i dati noi oggi due click e vediamo tutto lui doveva fare i viaggi per andare però si era ricostruito la base dati ad esempio per il mercato del grano dal 1500 quindi era riuscito a trovare delle leggi cicliche che superavano anche i secoli di dati e il lavoro che aveva fatto era un lavoro enorme e ci ha consegnato a mio avviso uno scrigno prezioso perché anche oggi oggettivamente queste tecniche funzionano e il fatto che funzionano anche su mercati che sono totalmente diversi dai mercati che erano quelli di 60 anni fa 90 anni fa dimostra che queste leggi sono universali cioè che sono stiamo parlando di leggi cicliche che sono leggi universali e che esulano anche dalla condigenza diciamo del momento c'è il contributo della tecnologia ci sono i sistemi ad alta frequenza ma il mercato comunque per grandi linee grandi linee intendo questa linea azzurra che vediamo è una grande linea cioè nel 2023 questo ciclo prevedeva un minimo a marzo un massimo a luglio un minimo a ottobre tre punti di swing fondamentali per adesso i primi due sono stati centrati in pieno perché 90 anni fa nel 1933 il Dow Jones il massimo esattamente il giorno in cui il Nasdaq ha fatto il massimo questo anno il 19 luglio cioè c'è una corrispondenza di dati che è anche impressionante questa corrispondenza si può anche spiegare da un punto di vista matematico e fenomenico però non entriamo già molto nei dettagli a noi basta vedere osservare e agire di conseguenza molto interessante perché appunto il grafico parla abbastanza chiaro insomma quindi questo modo di osservare i mercati per quanto riguarda quello che sta succedendo negli ultimi anni diciamo ha trovato un risconto sta trovando un risconto e ti sta dando ragione ovviamente è un modo diciamo che richiede anche dello studio anche proprio tanta tanta dedizione immagino e ti volevo chiedere se questo modo diciamo si discosta molto dalla dalla semplice stagionalità nel senso chi osserva non so l'andamento ad esempio del mese di settembre ottobre che in generale negli ultimi 5 10 15 anni hanno una stagionalità negativa ad esempio cioè qual è la differenza tra questo semplice modo di osservare la stagionalità e invece andare in profondità su questi cicli della natura sostanzialmente allora questa è una domanda molto interessante perché consente di evidenziare un aspetto che viene trascurato spesso noi quando facciamo la stagionalità implicitamente assumiamo che gli anni siano qualitativamente gli stessi per ogni anno non è così cioè ci sono anni in cui posso fare l'esempio nel 2007 il massimo è stato fatto nel mese di ottobre e lo standard del massimo è il 10 ottobre del 2007 e quindi anche se la stagionalità dava un minimo perché solitamente a ottobre gli andranno fatti i minimi per quell'anno particolare proprio per una confluenza ciclica è stato invece un mese di massimo quindi gli anni non vanno analizzati come se fossero tutti uguali tutti dei numeri diciamo ordinali ma all'anno va associata a una qualità quindi ci sono anni in cui effettivamente la stagionalità si replica ma si replica perché cicli maggiori consentono la replica invece ci sono anni in cui si inverte la stagionalità e l'inversione è anche una diciamo una conseguenza delle leggi di cui parlava Gann quindi dobbiamo anche stare attenti a fare la stagionalità e poi c'è un'altra cosa da dire lo studio di queste tecniche va condotto nel lunghissimo periodo non è sufficiente avere 20 anni di statistica non è sufficiente avere 40 anni di statistica diciamo Apple ha compiuto 45 anni l'anno scorso che era proprio la chiusura di un ciclo importante nell'elenco dei cicli che ho elencato il 45 anni è un ciclo importante e la chiusura del 45 anni aveva fatto quel massimo storico che la prima volta aveva toccato i 3000 miliardi di dollari di capitalizzazione era esattamente il giorno esatto esatto significa 3 gennaio del 2023 45 anni dalla quella che è stata poi la rifondazione di Apple esatti del 1977 la data che è stampata di Apple che è stampata sui certificati azionari è 3 gennaio 1977 e il fatto che abbia fatto l'anno scorso quel massimo tra il 3 e 4 gennaio e poi il minimo di quest'anno il 3 gennaio non è una casualità ma è una causalità cioè sono delle date che danno la conferma di queste che sono queste tecniche cicliche quindi Apple che ha già compiuto i 45 anni può iniziare ad essere studiato con queste tecniche ma ad esempio titoli come Rivian oppure Tesla che sono molto più recenti ancora devono dare una base dati per poter essere sufficientemente studiata perché serve una base dati lunga per questo motivo noi ci riferiamo ai mercati americani e soprattutto ci riferiamo alla borsa principale che allora era il Dow Jones ora l'indice principale l'indice benchmark è lo Standard & Poor già posso dire che fra qualche anno sarà il Nasdaq l'indice principale e tutti i discorsi che stiamo facendo adesso per lo Standard & Poor fra il prossimo Vito e il prossimo Paolo di 20 anni fra 20 anni lo faranno li faranno sul Nasdaq quindi serve una base storica lunga e per rispondere alla tua domanda va vista la qualità dell'anno quindi non si può fare una stagionalità sul ciclo annuale come se fossero tutti gli anni uguali questo a mio avviso è un errore quindi va va approfondita come dicevi tu queste tecniche prevedono una fase di studio lunga molto molto lunga qualche decennia di studi o almeno personalmente la mia esperienza è questa però poi una volta diciamo capita la tecnica e assunti tutti i dati si possono fare delle previsioni naturalmente parliamo sempre di previsioni probabilistiche non abbiamo la sfera di cristallo non ci assolutamente non ci proponiamo di fare l'analisi precisa però è uno strumento in più che noi possiamo utilizzare poi naturalmente va utilizzato con tutte le cautele e anche con tutti gli strumenti che abbiamo per operare sul mercato vanno in serie degli stop perché l'analisi può essere sbagliata ma per esperienza personale io ho sbagliato alcune analisi in alcuni anni l'errore è sempre dell'analista non della tecnica perché avevo avevo trascurato il contributo di un ciclo maggiore che in quel momento non guardavo era proprio un limite avevo una base dati limitata e mi riferiva a quei cicli e non vedevo il contributo di un ciclo maggiore questa cosa anche Ganna la fece perché ha dovuto fare delle correzioni su alcune previsioni e poi lo ha detto proprio lo ha scritto in alcuni corsi cioè ci sono alcune fini ciclo alcuni cicli maggiori in cui va considerato il ciclo che dà il contributo maggiore che può allungare non allungare può attenuare il contributo dei cicli secondari quindi va fatta un'analisi completa va visto il ciclo completo e vanno studiati i mercati nel lungo e lunghissimo periodo questo è il risultato della mia esperienza Paolo ho un'ultima domanda per te volevo chiederti sostanzialmente parlavi da quello che ho capito del 2024 come un anno dove ci potrebbe essere uno sfasamento dei grandi cicli quindi non quella confluenza che tu hai visto da quello che ho capito e hai riscontrato poi in modo anche incredibilmente impeccabile nei grafici negli ultimi tre anni quando c'è uno sfasamento cosa significa che ad esempio il 90 anni corrispondente al 2024 quindi nel 1934 non è più sostanzialmente un grafico su cui si può poggiare diciamo detta in modo la replica sostanzialmente dell'andamento no non è così quello che voglio dire è che le informazioni che danno non sono più non concordi cioè i cicli maggiori danno delle informazioni in quel periodo sono discordi ora se dovessi augurarmi io mi auguro che si spenga il 90 anni perché il 90 anni poi prevede un 2024 non facile i primi due mesi dovrebbe fare un massimo entro marzo poi estrema difficoltà io sinceramente penso che sarà così sarà proprio così cioè sarà proprio il 90 anni che domina mentre il 20 anni e il 60 anni che sono gli altri due cicli maggiori che danno sempre contributo potrebbero sfasarsi e quindi non dare quel contributo di sostegno magari non replica esattamente quello che ha fatto nel 1934 che è stato un anno ribassista quantomeno laterale ribassista è stato nel 34 magari scenderà un po' di meno perché c'è ancora il contributo positivo degli altri cicli poi dovrebbero rifasarsi tutti e tre nel 2025 ma questa cosa qua magari la possiamo affrontare in altri in altri video in altre occasioni quello che voglio dire è che quando il mercato dà un suo sviluppo è il mercato stesso che ti fa capire quale ciclo sta seguendo l'abilità dell'analista sta nel capirlo subito e nel capire le priorità dei cicli quindi avere una cognizione io continuerò a seguire questo ciclo 90 anni perché è stato il ciclo dominante in questa fase ha fatto il minimo quando lo ha fatto 90 anni fa nel 1935 allora lo fece a luglio del 32 quest'anno questo ciclo scusa l'hanno fatto ad ottobre ma perché c'era il contributo del ciclo 20 anni che si chiudeva esattamente a ottobre diciamo è come se guardassimo una sintonia lunga e poi la sintonia fine che la fanno i cicli minori poi c'è anche l'analisi che va fatta sui cicli ancora inferiore anche quelli inferiore a un anno quindi va visto i cicli trimestrali vanno visti i cicli ancora inferiore anche gli swing settimanali per i quali può essere fatta un'analisi precisa ci sono alcuni colleghi i miei colleghi che analizzano il mercato anche nell'intraday applicano queste tecniche anche nell'intraday io lo faccio anche però molto più raramente preferisco avere le visioni d'insieme anche per per dare un contributo ai miei clienti che sono c'è un cliente che operano più di swing quindi vogliono uno scenario un po' di medio medio-lungo termine queste tecniche mi consentono almeno fino ad oggi mi hanno consentito di quantomeno non stare dalla parte sbagliata oppure stare il meno possibile dalla parte sbagliata quindi a luglio abbiamo venduto perché avevo tutti i cicli che mi dicevano c'è possibilità di una pausa d'estate adesso la pausa c'è stata c'è stata questa correzione potrebbe anche proseguire lo standard che un punto tra l'altro ha fatto dei minimi abbastanza strani perché ha fatto quattro minimi più o meno negli stessi giorni in area 4.216 18 20 poi c'è stata venerdì la grande ripartenza per come c'è stata la modalità di ripartenza potrebbe anche essere una ripartenza circa però a me c'è questa questo l'ultimo swing del ciclo che diciamo un po' mi fa essere prudente ancora prudente dopodiché se dovesse formarsi un minimo tra la seconda la terza la terza la fine di questa settimana e la prossima diciamo intorno al 20 ottobre potremmo anche dare per terminata questa fase correttiva e quindi riniziare una fase di rialzo i cicli mi dicono che la fine dell'anno potrebbe essere positiva quindi almeno come indicazione generale poi dobbiamo vedere comunque dove si appoggia il mercato perché se si appoggia a 4.200 è una cosa se si appoggia a 4.000 è un'altra cosa quindi il rialzo poi sarà sempre proporzionale al minimo che ha fatto c'è da dire una cosa che noi siamo anche in una fase in cui l'inflazione non è bassa quindi se dovessimo vedere un 4.000 di Standard & Poor diciamo più o meno equivalente al 3.800 del 2022 quindi dobbiamo anche fare queste considerazioni se nel 2024 vediamo un 4.100 quel 4.100 può essere numericamente accostato ai minimi del 2022 anche se non è numericamente lo stesso però il contributo poi che dà l'inflazione al mantenimento dei prezzi dell'azionario ci porta a dire questo quindi va visto l'andamento del mercato non il singolo numero non va aspettato il singolo numero e poi soprattutto quando guardiamo i cicli di lungo periodo come ho detto all'inizio i prezzi vanno normalizzati a quelli che sono i prezzi all'inizio dell'anno questa è anche la tecnica che utilizziamo molto interessante Paolo io ti ho invitato qui sul canale proprio perché a me piace osservare i mercati in tutte le loro sfaccettature sono anche molto curioso siamo fondamentalmente permeati di mercato quindi avere questi spunti diciamo di riflessione di analisi anche appunto da prospettive differenti può aiutare quindi io invito chi è incuriosito da questo modo di osservare il mercato quindi applicando fondamentalmente le leggi della natura le leggi della matematica a seguirti a seguire Paolo Nardovino perché in effetti c'è sempre da imparare poi appunto Gan è sicuramente ha scritto dei bellissimi libri che che tu stesso mi pare inviti un po' a leggere chiunque voglia incuriosirsi approcciarsi in questo mondo che all'inizio magari può sembrare un po' diciamo un po' astratto consentimi di questo aggettivo ma in realtà poi appunto la pratica può dare delle sorprendenti testimonianze insomma sì è così naturalmente queste tecniche vanno sempre affiancate da uno studio del mercato con diciamo le tecniche quelle normali anche lo studio dell'analisi macroeconomica e microeconomica va fatto cioè se siamo in una fase di recessione dobbiamo tenerne conto quindi queste tecniche sono uno strumento in più ecco questo è uno strumento in più da utilizzare naturalmente sempre con la massima cautela e sempre considerando che stiamo parlando di modelli probabilistici assolutamente non sono consigli operativi quelli che tu hai dato però comunque ci ritroviamo fra qualche settimana fra qualche mese per vedere effettivamente se questo ciclo si sarà spinto nella sua linearità anche a confermare diciamo la corrispondenza fino ai prossimi mesi e poi vedremo il 2024 magari qualche altro ragionamento Paolo io ti ringrazio e ti invito alla prossima e vi appunto invito a lasciare un like e a commentare appunto per farci capire anche se questa tipologia di video può interessarvi perché appunto offriamo spunti alternativi anche alla visione del mercato ciao Paolo ciao Vito grazie dell'invito un caro saluto a tutti gli spettatori del tuo canale grazie a tutti grazie a tutti